Mister Lilli, si può festeggiare il Natale in lockdown con un piccolo sorriso fra le labbra? Sì, sì, io sono molto contento, ripeto perché glielo ho già detto ai ragazzi, sono contento di quello che abbiamo sviluppato in tutta la partita. Tra il primo e il secondo tempo, perché abbiamo avuto l'atteggiamento dopo l'1-0 a loro, abbiamo avuto l'atteggiamento come se fosse già finito tutto. Abbiamo rischiato di prendere il secondo e il terzo gol in delle ripartenze dove loro si sono presentati un paio di volte davanti al portiere e hanno preso due pali. Questo non deve succedere, come ho già ripetuto altre volte, perché anche se tu perdi 1-0, la partita, dimostrazione anche quello che abbiamo fatto noi, al 93esimo te la puoi andare a prendere un risultato positivo. Secondo tempo siamo ripartiti, abbiamo preso il 2-0, abbiamo continuato comunque dal mio punto di vista a fare le nostre cose o che vorremmo fare in maniera continuativa nei 95 minuti e secondo me alla fine ce lo portiamo a casa, io dico con grande merito e anche con grande orgoglio perché, come ho detto altre volte, sono orgoglioso di allenare questi ragazzi. Questo è importantissimo anche per l'autostima che si accresce perché aver recuperato una partita così dopo averne perse altre agli sgoccioli è estremamente importante perché vuol dire che il cattolico smarignanese c'è. Credo che, vado a ritroso, ci sono stati i 20 minuti di domenica secondo tempo della Correggese, gli ultimi 15-20 minuti del Corticella e il primo tempo con il Ghivizzano dove possiamo dire che la squadra magari non c'era, diciamo così, in tutte le altre situazioni, con tutte le altre squadre abbiamo dimostrato di starci, di avere delle idee. E' chiaro che, come tutte le cose che si costruiscono da zero, ci vuole il tempo, ci vuole il tempo e bisogna passare anche attraverso delle situazioni non semplici e non facili. In bocca al lupo, ci aspettiamo il regalo della Befana? Va bene, intanto prendiamoci quello di Natale, poi per la Befana ci abbiamo tanto da lavorare e ripartiremo la grande. Direttore, com'è bello il Natale? Eh, bello, bello, ci siamo ripresi in parte quello che ci è stato tolto nelle altre partite, quindi tra l'altro abbiamo rischiato in due o tre episodi, però secondo me poi, come hanno detto anche loro, il pareggio è assolutamente meritato. Hai inventato un Euro-goal? Eh, per fortuna che è uscito, almeno siamo riusciti a pareggiare perché comunque abbiamo spinto tanto verso la fine, quindi secondo me ce lo meritavamo anche per quello che abbiamo fatto nelle partite scorse, comunque ci volevo a questo punto per ripartire. Hai avuto un ottimo impatto su questa partita, sei entrato bene, indipendentemente dal gol hai dimostrato personalità. Sì, perché comunque sono entrato che eravamo sul 2-0 e la cosa principale era cercare di recuperare la partita, e quindi ho fatto di tutto per cercare di aiutare i miei compagni. Direttore, hai dato tu un po' di carica psicologica a questi ragazzi che non hanno mai mollato fino alla fine, nonostante un primo tempo non splendido? No, intanto non sono pienamente d'accordo con te Roby, perché primo tempo noi, soprattutto quando era in campo Go, che oggi l'ho visto anche bene, loro ci soffrivano molto sugli esterni. Poi dopo l'uscita sua è cambiato qualcosa e ovviamente poi loro sono una squadra che non dimentichiamoci che è stata costruita per lottare ai vertici della classifica, quindi questo è inevitabile. Io ho sempre detto che la squadra ha qualità e lo confermo, volevo da loro una reazione, infatti è stato detto sia da me che dal mister di tirare fuori gli attributi e secondo me oggi gli attributi sono usciti. Quindi questo è il Cattolica del futuro? Tanta determinazione, cattiveria agonistica e volontà. Ma sì, noi se abbiamo un po' più di convinzione e un po' più di consapevolezza, ripeto, noi siamo un gruppo di qualità, se riuscissimo a lavorare ancora più sulla mente dei calciatori, secondo me, io l'ho sempre detto, ci divertiamo. Quindi intanto godiamoci questo Natale, faccio gli auguri a tutti e speriamo di ritornare ancora più forti di prima. Adesso noi aspettiamo il regalo della Befana, si ritorna in campo il 6 di gennaio e questo entusiasmo che avete messo dentro cercate di usarlo. No, sicuro, speriamo di cominciare a vincere le più partite possibili per risalire la classifica comunque. Scusate, ce lo meritiamo come gruppo e ci impegniamo, lavoriamo. Prendiamo solo che anche gli episodi cominciano a girare meglio da nostra parte e basta, continuare così. Buon Natale! Anche a voi!